Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale dedicato ad unboxing e recensioni Io sono Jacopo e oggi siamo qui in una location un po' diversa dal solito perché oggi non unboxiamo, recensiamo nulla ma volevo parlarvi secondo me delle migliori offerte dell'Amazon Prime Day 2018 Ho selezionato alcuni prodotti che secondo me hanno migliori sconti e migliori prezzi durante questa offerta, affrettatevi perché molte di queste offerte scadono a breve quindi vi lascio il link qui sotto in descrizione e cominciamo subito La prima cosa che vi consiglio di acquistare e che si trovano veramente a poco sono dei cavettini USB, dei cavi SCART, dei cavi per qualunque cosa perché sono scontati, magari anche di poco, però i cavetti servono sempre soprattutto se trovate, io ne ho già acquistati un paio, cavetti magnetici per il vostro cellulare perché aiutano anche molto a rovinare di meno la porta USB e non fargli prendere polvere quando non utilizzata quindi vi consiglio principalmente questi e cavetti USB perché si rompono sempre in fondo, vengono sempre smarriti oppure dopo un po' non funzionano più quindi secondo me questa è una delle prime cose che dovreste acquistare come seconda cosa che ho selezionato riguardante principalmente a questo canale sono i droni i droni perché ce ne sono di quelli come ad esempio Sima che da 50 euro sono calati a 20-25 euro quindi secondo me è un ottimo prezzo anche per le prestazioni che offrono comunque ho appena registrato un video riguardante ai droni e tra qualche settimana verrà pubblicato qui quindi ricordatevi di attivare la campanella per non perdervelo e molti altri droni, soprattutto accessori per i droni che hanno un prezzo molto ridotto rispetto al prezzo normale grazie all'Amazon Prime Day e appunto vi consiglio di acquistarli anche droni di piccola taglia se volete iniziare proprio in questo periodo un'altra cosa sono gli accessori in generale gli accessori che siano da tech, che siano per la casa, che siano per qualunque cosa perché ci sono degli accessori a un prezzo davvero ridicolo da 1 euro a 5 euro che sono davvero utili come piccoli cavetti USB riuniti tutto in un cavetto appunto USB che si dirada in vari cavettini micro USB da poter attaccare più cose insieme oppure per vari tipi diversi di cellulari insomma questi accessori qui e poi i powerbank i powerbank ora sono in uno sconto assurdo sono calati davvero di tanto sia da quelli di una piccola carica sia da quelli come quelli della EasyHack sono davvero fantastici passiamo poi ad esempio agli smartwatch gli smartwatch sono oggi veramente in uno sconto assurdo sono degli sconti anche del 30-40% quindi davvero ottimi e ve li portate a casa per fantastici prezzi anche se io ancora aspetto perché voglio comprarmi il Lempo S1 però non adesso diciamo smartphone invece abbiamo anche qui ottimi sconti soprattutto riguardanti a Samsung e Honor sono sconti veramente molto alti e soprattutto se desiderate smartphone di prezzi non troppo alti dai 100 ai 150 euro diciamo abbiamo ad esempio la serie Samsung J oppure Honor 7 mi pare una roba del genere comunque sono veramente prezzi fantastici per gli smartphone in questo periodo servirebbero ventilatori che non so se sono in sconto però non ci ho guardato le schedine SD le schedine SD adesso te le tirano dietro così quindi compratene un botto perché tanto le usate o nei telefoni o nelle GoPro o nei droni o in qualunque cosa delle schedine SD micro SD servono sempre in un modo o in un altro vengono utilizzate quindi vi consiglio di comprarne una o due io adesso guardo alcune migliori offerte e credo di acquistarne perché mi servono e sono davvero utili un'altra cosa a proposito di schedine SD l'action cam l'action cam ora te le tirano dietro a un prezzo a partire dai 20 euro ai 50 iniziali quindi adesso avete delle cam veramente piene di accessori piene di qualunque cosa che ovviamente non saranno all'altezza di una GoPro però a un 1080 sicuramente a registra quindi avete un'ottima qualità per 20-30 euro in un action cam che secondo me sono una cosa fantastica abbiamo poi kit di accessori per l'action cam come le GoPro che ti danno a un prezzo dai 10 ai 15 euro 40 accessori 20 accessori sono una cosa più che fantastica perché soprattutto ti danno anche la borsa per il trasporto ti danno le pettoline ti danno copro il capo con l'aggancio per la GoPro ti danno un sacco di ganci ti danno il galleggiante ti danno le aste ti danno un sacco di oro a un prezzo davvero scontato di 15 euro 10 euro in base ai pezzi che volete acquistare videocamere videocamere adesso sono scontate quasi anche del 50% ci sono delle camere fantastiche a un prezzo di 200 ai 200-400 euro così che io non utilizzo camere e videocamere però secondo me per chi ci è appassionato fotografia, videoregistrazione secondo me i prezzi sono veramente ottimi perché sono calati anche di un 30-40% con questo Amazon Prime Day e potete approfittarne perché ci sono videocamere davvero fantastiche con ottime qualità portabilissime molto piccole ottimi zoom un sacco di queste cose qua davvero a prezzi fantastici televisioni se dovete cambiare una televisione potete acquistarli adesso perché adesso ve le lanciano dietro ci sono delle televisioni dai 20 pollici agli 80 che sono una roba immensa a un prezzo che veramente se vai all'1 euro e ci compri una da 30 pollici su Amazon te ne porti a caso al prezzo di una da 30 pollici ti porti a caso un 65 pollici quindi adesso veramente è il momento esatto se dovete cambiare la televisione anche se non so quanti di voi adesso dovranno comprare la televisione però non si sa mai impianti impianti in generale dagli impianti stereo dagli impianti videocamere dagli impianti qualunque tipo di impianto soprattutto stereo i videocamere adesso stanno calando appunto un sacco di prezzo quindi se volete installare un sistema di videocamere a casa vostra un sistema stereo per delle feste se dovete acquistare insomma queste cose qui secondo me appunto adesso avete sconti fantastici soprattutto di appunto sette di videocamere che vanno dai 100-170 euro agli 80-50 in base alle videocamere in base alla risoluzione in base a un sacco di cose però secondo me ora è il periodo giusto per chi non ha videocamere in casa o all'esterno di poterli installare per questi prezzi scontatissimi poi abbiamo un'altra cosa che non so a quanti di voi potrebbe interessare però abbiamo il fai da te il fai da te adesso ha dei pezzi veramente ottimi ha dei prezzi veramente ottimi perché molte cose come dei seghetti alternativi come dei trapani come delle batterie di ricambio come delle punte come set di cacciaviti set di punte per cacciaviti trafogli elettrici da tavolo un sacco di queste cose qua sono scontate da prezzi alti come 100 euro arrivano anche dei seghetti alternativi seghetti da tavolo da 170 euro adesso sono agli 80 ai 70 euro quindi secondo me davvero se siete appassionati di fai da te fatevi un pensiero adesso perché secondo me è il momento giusto ultime due cose abbiamo la casa accessori per la casa adesso avete tutto potete farvi casa nuova adesso dalle vernici dalle decorazioni dalle paniglie dagli orologi dal portacandele dalle sedie le sedie ce ne sono un botto dai tavoli volendo anche computer se avete bisogno di computer computer fissi oppure portatili un sacco di cose che per la casa sono utili adesso è il momento per acquistarle per farvi casa nuova ultima cosa dash button i dash button prima costavano 5 euro e 99 no 4 euro e 99 l'uno adesso ve li danno a 2 euro l'uno 1 euro e 99 l'uno quindi vi consiglio di acquistare anche quelli perché se avete molto uso di pasta pannolini se avete figli caramelle pastiglie per la lastoviglie nesquick un sacco di cose non avete tempo di andare a comprare con un click questi affari vi arrivano a casa nel giro di 24 ore anche questi appunto sono a un prezzo scontatissimo vi consiglio anche questi ora io come al solito vi lascio il link di tutti questi affari qui sotto in descrizione tutti questi affaroni e se non siete ancora iscritti iscrivetevi qui sotto noi ci vediamo nel prossimo video lasciate un mi piace e ciao alla prossima